Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La tragica notizia è appena arrivata, dopo giorni di ricerca alla drammatica notizia. È stato trovato morto, forse colto da un malore improvviso. Ma di chi stiamo parlando? Trovato morto Pietro Umile, il 54enne di Marsala che era scomparso da qualche giorno. La famiglia aveva denunciato l'anomalo allontanamento dell'uomo. Pare ci siano pochi dubbi sulla morte naturale. Il medico legale chiamato dalla procura marsalese non ha trovato sul corpo alcun segno di violenza. Comunque è stata disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo per fugare ogni tipo di dubbio. Il corpo senza vita del 54enne è stato trovato ieri sera dai carabinieri nei pressi del parco Salinella. Per l'esattezza, l'uomo scomparso da tre giorni è stato trovato morto riverso a terra in un terreno. Si ipotizza che possa essere stato colto da un malore e che nessuno i sia accorto della sua presenza in questa zona della città molto periferica. La sorella della vittima, Francesca Umile, appena ieri aveva deciso di lanciare l'allarme anche attraverso i social. Siamo disperati aveva scritto nell'appello divulgando i numeri da chiamare in caso do avvistamento del fratello. Purtroppo in serata è arrivata la tragica notizia.